Sono 653 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime ore in Abruzzo, di età compresa tra 7 mesi e 93 anni, che fanno salire il computo complessivo a quota 52.951. Un dato questo relativo a 13.556 test eseguiti con un tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno che è pari al 4,8%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 1.679, di età compresa tra 54 e 94 anni, 6 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo e 9 in provincia di Pescara. Del totale odierno, 6 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono invece 148, 10 in provincia dell'Aquila, 67 in provincia di Pescara, 46 in provincia di Chieti e 25 in provincia di Teramo. Decresce il numero degli attualmente positivi che si attesta a 12.634 con un meno 86 rispetto alla giornata di ieri, ma crescono i pazienti ricoverati in terapia intensiva che salgono a 78 con un più 2 rispetto a 24 ore fa, mentre i pazienti in terapia non intensiva calano di 8 unità, attestandosi a quota 609, mentre gli altri 11.948, meno 79 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi 13.115 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 48 rispetto a ieri, 13.085 in provincia di Chieti, più 255, 13.550 in provincia di Pescara, più 279, 12.595 in provincia di Teramo, più 111, 422 fuori regione, più 9 e 184, meno 50, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.